Il gruppo festeggiamenti Vangadizza, con il patrocinio del Comune di Legnago, è lieto di invitarvi alla Sagra Patronale di Vangadizza, a Vangadizza di Legnago, in provincia di Verona, dall'11 al 15 di maggio. La manifestazione prende il via venerdì 11 maggio con la grande orchestra di Omar Codazzi. Sabato 12 maggio, grande serata con l'orchestra di Diego Zamboni. Non perdete la super serata di domenica 13 di maggio con la grande orchestra di Pietro Galassi. Lunedì 14 di maggio, eccezionale serata con il Pariolin Tour, in compagnia di Michele Michele. Gran finale, martedì 15 maggio, con la super orchestra di Rossella Ferrari e i Casanova. Vi ricordo che tutte le sere, a partire dalle 19.30, sarà in funzione un fornitissimo stand gastronomico e domenica 13 di maggio lo stand è aperto anche a mezzogiorno. Ricca pesca di beneficenza, stand, zona riservata, amici quattro zampe, mercatino di artigianato, obbistica e artistico, ampio parcheggio gratuito. Vi ricordo che tutte le manifestazioni si sfoglieranno al coperto. Seguiteci anche sui social Facebook e Instagram Sagra Patronale di Vangadizza oppure su internet www.noigruppofesteggiamenti.it Vi ricordo che si balla su Grande Pista d'Acciaio. Sagra Patronale di Vangadizza, a Vangadizza di Legnago in provincia di Verona, da venerdì 11 di maggio a martedì 15 di maggio. Non mancate!